Tra poche ore ci sarà l'elezione del Comitato Direttivo del Lanci Regionale. L'Irpinia sarà rappresentata da sette delegati, fra cui il consigliere comunale di Ariano Irpino, Domenico Gambacorta. Il Lanci è il soggetto istituzionalmente deputato ad incontrare il Governo e il Parlamento a livello ovviamente di Comitato Nazionale in occasione della legge di stabilità e in occasione di tutta la normativa che riguarda i comuni italiani. A livello regionale si elegge domani anche il nuovo Presidente regionale, sarà Carlo Marino, attuale Sindaco di Caserta, che sostituisce Mimmo Duccillo, che è stato Sindaco di Afragola fino allo scorso anno, ma che in passato è stato anche parlamentare per più legislature. È un direttivo in cui l'Irpinia purtroppo non è molto rappresentata, perché siamo solo in sette su cinquantasei. Anche questo è un po' in qualche modo la causa legata allo spopolamento, siamo un po' di meno e diminuiscono anche le posizioni all'interno di organismi rappresentativi come Lanci. Spero di poter rappresentare al meglio non solo gli interessi della nostra città, ma anche quelli di tutto il comprensorio e soprattutto di quelli dei piccoli comuni, che stanno molto soffrendo in questo momento in vista del bilancio, di minore personale che a causa di quota 100 è andato in pensione e per le difficoltà che ci sono anche di sostituirlo. Lei ha per l'appunto citato il bilancio, una questione che attanaglia tanti amministratori comunali. Sì, in effetti le risorse oggi derivano quasi tutte dalla fiscalità locale, cioè dalle tasse e dai tributi che pagano i cittadini e ovviamente dove c'è più crisi economica c'è anche maggiore difficoltà e c'è minore propensione a pagare le tasse comunali. È una difficoltà che appunto la crisi ha determinato e che poi determina anche la minore possibilità di investimento da parte dei comuni. Inoltre c'è una minore possibilità di attingere a mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, cioè che è la grande banca degli enti locali e questo determina un rallentamento negli investimenti su strade, su scuole e su impianti sportivi.